Benvenuti in un nuovo mega dropper super mega fantastico Allora siamo già qui perché abbiamo dovuto rinitare la mappa perché siamo mega scarsissimi E il primo livello è difficilissimo È difficilissimo Ma proprio difficilissimo Però Fere teoricamente ha scoperto da dove ci si butta Quindi Fere fammi vedere un po' Secondo te me lo ricordo pure Ah te lo sei già dimenticata Allora mi è sembrato guarda da questa parte Ok quell'angolino Vedi tu vai sopra la testa del leone Vai buttati Dopo il faro Io ti seguo E vedi che c'è la casetta dove c'è l'acqua secondo me lì Io ti seguo ok Vado Vediamo Vado La sto seguendo La sto seguendo La sto guardando Guardatele mentre quanto è difficile Ero molto vicina Sì sì Ha ragione Ha ragione si fa da lì Tutto questo casino per una pozzetta d'acqua minuscola Però c'è da dire Che è incredibile Che l'ambientazione è fantastica Sì Cioè è tutto costruito al contrario Il faro Poi ho visto che c'è un cerbiatto Un leone C'è di tutto Bellissimo Porca Mi ci sto iniziando ad avvicinare Cioè la pozzetta d'acqua è minuscola in confronto al posto È davvero davvero minuscola I primi tentativi comunque sono stati tutti per cercare di vedere dov'era questa pozzetta Esatto Perché è difficilissimo anche solo vederla Peccato Ci sto iniziando ad andare vicino Io prima o poi lo faccio Fere Io prima o poi lo faccio Impegnati perché Stef Beh no Stef Sennò siamo tutto il giorno qua Quindi Non ce la farò Fere tu inizi ad essere molto Io adesso ho provato Fare un'altra strada Però ci sono i blocchetti di lana Prima della pozzetta E mi stanno bloccando quelli Quelli col vetro attaccato Eh Esatto esatto Per darti fastidio in ogni modo Esatto 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 Ma come ci stai riuscendo ad arrivare lì? Aspetta No Dalla testa del leone comunque Cioè tu da qui Aspetta Allora praticamente Ok La vedi la testa del leone? Sì Devi andare Non la vedi invece Io non ho il render distance A me è il render distance Ma loro mi hanno fatto le impostazioni loro Ma chi ho premuto le loro impostazioni Stef 15 chunks Fammi vedere Ora lo vedo Allora praticamente in quel pezzettino qua Quello più in alto qua Lo vedi questo? Ok Io vado lì però poi sbatto nella lana Vai Fammi vedere E comunque era strano il tuo render Oh anche io ho premuto le loro impostazioni Ti seguo? Impostato così Ok E se tu vai qui Ah Uh ce l'ho quasi visto dove sono finita Ah Ma sei bravissima Lo so però C'è No non è il problema capirlo Stef Il problema è eseguirlo No 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 Il problema è capire Il problema è capire in queste cose Il problema è eseguire Il problema è capire Perché puoi eseguire Basta tentare 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 Senza rendersi E lo fai E lo fai Porca miseria Sicuramente l'idea era stata mia E' fatto anche per me Basta E uno è andato E uno è andato Beh noi siamo in coop Per collaborare Quindi basta che uno di due lo fa Adesso dobbiamo andare nella Desolate region Quindi regione desolata Aia C'è un bruga Fammi vedere No vabbè Ma aspetta Ma quanto giorno ho messo a fare Sti cavolo di dropper Fere No a parte che sono fantastici Perché sono tutte città costruite a rovescio Ma l'hai visto Anubis? C'è ancora Anubis? Oh mio dio Guarda E' spettacolo Vabbè Siete mati comunque Allora Io ho notato che il tempio è tutto pieno di buchi Quindi per ora vado in mezzo a un buco del tempio Io penso di aver visto dell'acqua Eh vista l'acqua Vista l'acqua E' tutta in fondo Quindi se ti lanci sul tempio Devi andare nei buchi Ok Molto molto in fondo Quindi io mi prendo una bella rincorsa Volo Ok Ok devo passare qua in mezzo Vedete 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 Non è difficile Non è difficile L'ho quasi fatto L'ho quasi fatto questo Opla Quindi abbiamo detto Qua in mezzo Schivo qui E poi miro Ok 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 Ho toccato l'acqua Ci rivicino? Uh ho toccato l'acqua Ok 3 2 Aspetta una bella rincorsa mi serve Perfetto Bravo Steph Bravo 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 Fatto Ho toccato l'acqua Ti ho visto Mi hai visto? Sì Ma dai guarda Steph Se sono arrabbiata Ci puoi riprovare? Sì Ok Cioè almeno questo che è un po' più semplice Però aspetta Questo è molto più semplice del primo Non mi ricordo Dove c'è il tempio? Dove c'è il tempio? In rincorsa Fu 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 E ce la fai Ok Odio la mia vita Steph Adesso la osserviamo Quindi lei sarà in ansia Morirà molto peggio Guardatela Cioè ti rendi conto di una cosa? Aha Il gioco ha deciso di non renderizzarmi niente Io mi sono buttata a casaccio Non vedevo cosa avevo sotto Vedevo il cielo di Minecraft E ce l'hai fatta E ce l'ho fatta Cioè senza vedere dove stavo andando Vabbè Bene Il secondo completato Adesso The Land of Ice Quindi la terra del ghiaccio No vabbè Che bello Ma come cavolo ci riescono Ma è uno spettacolo È bellissimo Cioè quanto sovrannome ha messo? 50 anni per costruirlo Cioè Sì Allora secondo me dobbiamo passare da Babbo Natale Vieni Andiamo da Babbo Natale Ah c'è pure Babbo Natale Oh 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 E infatti è lì E infatti è lì E una piccola croce d'acqua lì L'hai vista? L'ho vista Poi sono morta Però l'ho vista Cavolo Mi sono buttato dall'altro lato Preso dall'enfasi Vabbè non conta Ok Non sono morto Allora quindi da qui Abbiamo detto All'incirca così Bisogna Schivare Tutto Andare l'indietro Oh Oh Fere Eh Oh Bravo Oh Grazie Posso andarmene? No Perché? Perché devi riuscirci Fere No Allora non mi sta caricando le cose Davvero? Sto vedendo all'ultimo dei blocchi che non ci sono Non ho capito You can do this You can do this Non ti sto cercando di iniziare No non ho capito sta roba Vabbè Fammi vedere scusami Ce la puoi fare Lasciami pace Stef A quanto è il render? Io l'ho messo Era a 18 E chiaramente io non lo metto mai a 18 Quindi vedi che me l'ha impostato lui Sì E invece a me non li aveva impostati Io lo tengo intorno ai 10 Solitamente Quindi Ok L'ho abbastato un pochettino Perché secondo me sta avendo problemi Fammi un altro No raga ma quello lì Era un gatto delle nevi Cioè vabbè Basta Stef Non c'è Premo? Sì Vado? Basta Ok È il momento del quarto livello Cosa abbiamo adesso? La De Oh no L'isola del diavolo No No Perché teoricamente Cioè vabbè c'è un tipo che sputa a fuoco Una torre infuocata Un ghast Quanta roba c'è anche qui Stravello C'è pure il pigment Anzi no Un pig zombie E allora Per te che sto controllando anche io Bello Allora Hai visto acqua? No per niente Vero? È tutto rosso qua Non si deve Esatto Allora io inizio a buttarmi a casa Anche io mi butto da qualche parte E vista E sembra molto centrale Mi è venuto il dubbio È lì giù È lì giù Eh non proprio eh Allora passiamo dal ghast Sfioriamo qui alla destra E dov'è l'acqua? No è più lì Al centro Ce l'ho fatta Stef Davvero? Sì 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 Stavolta ce l'ho fatta io Ma sei passata da qua? No Devi passare da Un po' più avanti Stef Un po' più avanti Quindi mi lancio così? Sì Ah Lì alla sinistra Sì Sì Devi entrare lì dentro Capisci? Ok Sì 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 E lì l'ho fatto E alla fine se non prendi i blocchi vai dritto Noi entriamo da qua Schiviamo un po' E c'eri praticamente Eitiamo l'acqua Eitiamo l'acqua Opla Ok Dai che Stef non si arrende E mi sento sotto pressure Devo dire che è brutto Quando finisce l'altro Perché ti senti di fretta Ti vuoi venire l'ansia? Ti vuoi venire l'ansia? Non voglio l'ansia Voglio essere tranquillata È vero È vero È vero Ok 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 Prego il bottone io per una volta che sono qui Perfetto Livello numero 5 La dipsia Let's go Oh Scatto Ok ci siamo Vabbè che belli sti livelli Stef C'è vabbè Vabbè ma quello lì È tipo una sirena Sembra Con la giara d'acqua Che la tira Aspetta Dove la vedi? Dall'altro lato C'è un tritone sicuramente Questo enorme è un tritone Lo noti? Sì Che è tipo anche il tridente Vedi da questo lato Vedi la sirena? Sì Sì Che sta con la giara d'acqua che la butta giù ed innaffia E qua il tritone enorme Bellissimo Bellissimo Mamma mia Vabbè quanto è ricamente pieno d'acqua Vabbè io mi butto e la cerco Siamo nei fondali marini L'hai vista? Sì è molto al centro Molto al centro sono blocchi singoli Quindi è tosta Cosa? Mi è sembrato fossero blocchi singoli Hai ragione Basta buttarsi leggermente in avanti Ok Ok ma mi sembra molto facile Eh io non ho ancora trovato un punto ottimale dove lanciarmi Appena spawni Dritto per dritto saltellino E devi andare un po' verso l'indietro Capisci? No Cosa vuol dire? Allora guardami Ok Così e vai un po' all'indietro Perché l'acqua c'è esattamente sotto Ah ok E ci sono due blocchettini Ok sì da qui è molto più semplice Sembra semplicissimo ma non ce li sto riuscendo Aspetta un attimino che qua Steph Sistema tutto E dai l'ho avruittata dieci volte Quest'acqua Porca miseria Ma perché devo prendere sempre il bordino? Sto rosicando Datemela Non ce la posso fare Il livello che sembra più semplice Io volevo puntare quelli con tre cosi Capisci? Ah ah E invece non ce la sto facendo Oh E meno male E non se può E non se può sbagliare Oh Anche fare subito dopo Fatto fatto Attenzione Ultimo livello per loro Ultimo livello per loro come si chiama? Si chiama Non si legge Going to the future Quindi andiamo nel futuro Ok c'è uno yacht No quella è tipo una navicella spaziale secondo me No quello è uno yacht Quello di fronte a noi Steph Ah sì è contrario Quello è che era un yacht Ok Ok Case super moderne Vabbè c'è un botto di roba Ma Steph vuole riuscire a finire Anche l'ultimo livello E l'acqua è quella? Ok C'è un quadrato da quattro Che sta tipo sotto una L'ho visto Ok Perfetto Come ci si arriva? Ma lo stavo domandando anche io Steph Quella è la difficoltà Beh Che quella è la difficoltà Lo so Da davanti è terribile lanciarsi No non possiamo superare sto palazzo Quindi io lo faccio dall'altra parte Esatto Ok Credo di aver trovato il lato giusto Secondo me l'ho trovato Però secondo me dobbiamo entrare anche in mezzo a quell'altro Guarda qui Fere Guarda se tu fai da qua Ok Praticamente devi andare tutto Verso il lato destro Eh ma devi entrare nel Nel buco giusto Per poi andare sotto Perché se no non ci passi da sotto A quel tettuccio Lo so Capisci? Lo so lo so E quello è il disastro Lo so Proprio la cosa più fastidiosa è l'ultimo livello Fammi l'ultimo livello piacevole caro mio Fammi No no L'ultimo livello deve essere un delirio L'ultimo livello è un delirio Eh vabbè no ragazzi Qua ci restiamo almeno 10 minuti Ma se ci va bene Allora Io voglio provare a passare dentro al palazzo Dove ci sono i buchi Secondo me se becchi il buco giusto Poi devi star fermo Eh può essere Perché io ho notato che comunque Eh si va abbastanza storti Non è che siamo poi così giusti Vediamo Io sto continuando Ok ma sono caduta Vabbè No ho sbagliato posto Ah no non me l'avevano dato anche a me Porca miseria Porca miseria Allora Dai Steph Dai Steph Trova il punto giusto No non mi sembra fattibile In mezzo al palazzo Non mi sembra fattibile Dopo 5 minuti ho trovato Almeno il posto Da cui si parte Ed è qui Bisogna andare tutto avanti Gestirsi bene E cercare di centrare il buco Quindi ora è soltanto questione Di farcela È ok Come se mi rincuorasse Saperlo Beh è già un passo avanti Fere Oh Oh Fere Capo Oh Ho preso il buco E non ho preso l'acqua Sai perché? Perché ho panicato Ho fatto l'ho preso E quindi sono andata storta Perché il mio cervello è così Ce l'avevi fatta Perché il mio cervello fa così a rovescio Ce l'avresti fatta per entrambi Ma porca miseria Voglio piangere Voglio piangere totalmente Ok Ok Caricami le cose Non le vedo Io sto seguendo a te Ma è troppo alto sto render distance Per farti vedere tutta la mappa E lo so E quindi cioè ogni tanto si flippa Non ti carica bene Dai Steph Io ho un po' di difficoltà in più di fare eh Devo essere sincero Devo ammetterlo Ma che difficoltà sto fallendo tanto quanto te Dai Ok Ok Ho capito come lanciarmi Ora devo soltanto azzeccare il punto Ora devo soltanto Soltanto Tra virgolette Azzeccare Cavolo Ce l'ho quasi Odio la mia vita Non solo tu fare Non solo tu Porca miseria Steph Perché c'è l'illusione che tu sbatti sul palazzo Ma in realtà sul palazzo non ci sbatti No infatti Infatti Ce l'hai fatta? We We are the champions We are the champions We are the champions Ok Steph Premi il bottone prima che mi strappi i capelli Te lo giuro eh Ce l'abbiamo fatta No 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 Mi ha lasciato qui Steph Ah ok Vedi è destino Non tornerò mai più Steph In ogni caso Siamo a metà mappa Se volete vedere la seconda parte lasciate tanti likes Ah non ero finita così Io spero di no Consolini Ho sei un figlio del demonio oppure tu Perché non mi hai Perché non mi hai avvisato Possiamo avessimo finito finalmente Allo start Porca miseria E me li ero dimenticata Ai cartelli Quindi Aiuto Se mettete tanti likes E noi ci torturiamo di nuovo No non metteteli Volentieri lasciamo perdere Perché è davvero davvero difficile Comunque ci fermiamo così